È il momento del nostro approfondimento. Questa settimana parliamo proprio di sport ma di diritto allo sport prendendo le mosse dal suo fresco ingresso nella Costituzione italiana. Nella versione originaria del 48 non si menzionava l'attività sportiva ma proprio quell'anno nasceva un'associazione che anche in Piemonte ha promosso un'idea dello sport esattamente in linea con i valori che sono stati appena riconosciuti nella nostra carta costituzionale. Parliamo dell'Unione Italiana Sport per Tutti. Salutiamo la sua Presidente regionale Patrizia Tano. Buongiorno. Allora Presidente UISP regionale cosa vuol dire in Piemonte cercare di garantire un accesso a tutti allo sport? Vuol dire occuparsi di tutte le fasce d'età, garantire ad ognuno uno sport a propria misura perché lo sport per tutti offre tantissimi corsi, noi lavoriamo su 180 discipline sportive ma anche campionati, gare, tornei e una serie di eventi collaterali che aggiungono allo sport grandi momenti di socialità, di educazione e di formazione. Ecco però la cronaca ci ha appena proposto un altro suicidio in carcere. Allora a me viene un po' da chiedere lo sport ad esempio nei penitenziari del Piemonte in che misura è presente oggi e cosa può fare per aiutare proprio la vita nel carcere? Sì, noi siamo stati la prima associazione a proporre un progetto di sport nel carcere minorile del Ferrantiaporti insieme al gruppo Abele molti anni fa. Abbiamo negli anni sperimentato quanto sia stato importante per i ragazzi reclusi all'interno del carcere questa attività, alcuni di loro sono usciti, hanno continuato a praticare sport, sono ancora in associazione. Interveniamo anche negli istituti penitenziari di Biella, Torino e d'Alessandria da molti anni. Servirebbe però ancora più sport forse nelle carcere e adesso vediamo se con questo inserimento in Costituzione ci sarà proprio un sostegno. Le voglio anche chiedere cosa serve poi allo sport di base in generale. Sappiamo che è stata anche approvata da poco una riforma del lavoro sportivo. Voi in che situazione siete in questo momento? La UISP è un ente che affiglia tantissime associazioni sportive e lavora per sostenerle in questa attività che loro svolgono capillarmente nel territorio. Quindi con una presenza in ogni quartiere. Noi crediamo molto nello sport di prossimità che è accessibile in quanto tale a tutti, che parte dalle scuole e arriva ad ognuno. E quindi noi in questo momento stiamo sostenendo le difficoltà delle società sportive a seguire le nuove procedure imposte della riforma e soprattutto a sopportare dei costi nuovi che non c'erano e che rischiano di penalizzare proprio quelle attività rivolte ai cittadini, alle fasce di popolazione che hanno meno possibilità di accesso a livello economico. Quindi il rischio è che i costi di questa riforma si riversino sui cittadini. Noi vogliamo evitarlo cercando di sostenere le società in tutte le incombenze e informarle costantemente perché questa riforma è entrata in vigore il primo luglio ma continua a proporre correttivi. E quindi questo è un aspetto che è stato importante aver toccato con lei. Noi invece adesso insieme a lei vogliamo vedere un servizio perché a proposito dei benefici per la salute, anche psicofisica, dello sport, vi parliamo di un progetto che è partito ormai molti anni fa. Primi studi nel Lazio, prime esperienze pionieristiche anche in Piemonte, grazie proprio alla collaborazione tra WISP e Dipartimenti di Salute Mentale. Matti per il calcio. Vediamo di che cosa si tratta con Chiara Pottini. Mi piace lo sport, essere tutti insieme, giocare, fare gol, vincere, stare tutti insieme. Beh, lo sport mi dà quell'adrenalina che mi permette di vivere bene. E' uno sport che dà veramente tanta importanza, soprattutto al benessere fisico e anche psicologico. Giocherò anche con il bastone. Non ci sono limitazioni, basta avere la voglia di correre e mettersi in gioco. Matti per il calcio. Dall'inizio del 2000 porta sui campi da gioco ragazzi con problemi psichiatrici o insufficienze mentali. Un progetto di WISP, dei Dipartimenti di Salute Mentale del Piemonte-Valle d'Aosta e dei servizi sociali del Comune di Torino. Una campagna condotta tra stadi e campi di periferia per annullare le barriere dei pregiudizi, le differenze tra chi viene considerato normale e chi no, perché a nessuno piace ricevere un gol. E quando si perde? Eh, ti giro, cioè, ti stai male, però fa parte del gioco. Se vinco va bene, ma se no gioco per divertirmi e basta. Aiutare un po' i ragazzi qua disabili. Perché sei più bravo? No, anche io sono disabile, però un po' più esperto. Pensate che in soli 12 anni ho fatto più di 4700 partite a livello amatoriale. E quante ne hai vinte? Eh, tante, tante. Adesso a memoria non le so perché non ho il quaderno dietro, ma ne ho vinte tante. La loro è una partita infinita, raccontata anche in un film e documentario che alterna le storie personali con le vicende sportive. Una sfida alla banalità della compassione da vincere insieme. Lo stare insieme li aiuta a comunque avere un minore utilizzo di farmaci e la socialità li porta comunque a stare meglio anche fisicamente e quindi vengono ridotte le ospedalizzazioni. Lo sport effettivamente fa bene e positivo per la socialità perché comunque nel momento di sport non ci sono le sigarette, non c'è il caffè, non ci sono queste cose qua. E quindi anche correre dietro un pallone assieme a delle altre persone per un'ora fa bene. Patrizia Alfano, voi siete coprotagonisti di questo progetto, ma non si tratta solo di far giocare ogni tanto a pallone questi ragazzi, c'è molto di più. Sì, sì, c'è molto di più perché ad esempio il progetto prevede riunioni periodiche tra gli educatori, gli psichiatri e i nostri istruttori, tecnici, allenatori, organizzatori per calibrare sempre gli interventi, le partite, le attività collaterali al raggiungimento di obiettivi che sono proprio raggiungere il benessere attraverso la pratica sportiva, ridurre l'uso di farmaci e sicuramente Matti per il calcio dimostra quanto lo sport sia importante per star bene con il proprio corpo, prendersi cura e ritrovare anche un'identità sul piano anche dell'autostima. Quindi per loro è molto importante sentirsi dei giocatori di calcio, giocare un ruolo e sentirsi per un giorno campioni e questo deve essere permesso a tutti. Ecco, non esistono solo i campioni che noi vediamo nel bellissimo sport in televisione di prestazione, ma esistono anche i campioni quotidiani che devono poter praticare sport. È un diritto di tutti anche la competizione. Allora, grazie a Patrizia Alfano, presidente regionale della WISP.